Davide, hai raggiunto oggi, potessi farlo? Non davvero, perché ero stile l'ultima settimana, ho detto che già ero una settimana in giro. Non ero capito di rinforzare, quindi non avevo i piedi per seguire i migliori rinforzi, quindi provavamo per l'erly breakaway. Non funziona, non funziona. Poi arrivò proprio al bottom della linea, con il giovane preferito del GC. Mi legge sono già al limite, ma quando ho vinto un'opportunità, quando ho stopto, ho detto che magari si stanno guardando un po' un po' per la classificazione. E ho cercato di prendere la mia scuola, e ovviamente in una scuola stessa è difficile fare qualcosa di così. Grazie mille.